Nonostante il cielo che minacciava pioggia e la pandemia, anche quest'anno è stato un successo, la Fiera delle Capre in Valle Rossa. Per questa edizione sono arrivati tanti allevatori anche da fuori provincia, eppure il pubblico ha risposto bene. La manifestazione, come lo scorso anno, si è svolta in ricordo di Dario Capitanio, giovani di Cene scomparso in un incidente stradale nel novembre 2018. Quest'anno c'era l'incognita Covid, ma gli amici di Dario hanno voluto comunque riprovarci. I numeri sono stati leggermente inferiori, ma anche quest'anno sono stati superati i 300 capi. Ci ha spinto la voglia ad andare avanti, da ricominciare, visto che fiere quest'anno non se ne sono fatte, siamo un gruppo unito e abbiamo voluto rischiare e l'abbiamo fatta. Non ci aspettavamo una cosa del genere, proprio soddisfatti. Il piatto forte della due giorni è stata la mostra della capra rustica autoctona. Le diverse categorie di capre e becchi sono state divise in due sezioni, orobica e multirazza. I vincitori delle singole categorie, scelti dal giudice Stefano Giovenzana, hanno poi gareggiato per i titoli di re e regina della fiera. Tra le capre il titolo di regina, sia per la razza orobica sia per la sezione multirazza, è andato a due esemplari dell'azienda Carla Binda di Oliveto Lario, in provincia di Lecco. Per i becchi invece successi bergemaschi. Per la razza orobica ha vinto un esemplare di Cristian Chioda di Valgoglio. Per la sezione multirazza un becco di Paola Cumini di Schilpario. C'è stato un buon aumento di livello degli animali presentati. Gli allevatori capita spesso quando le manifestazioni sono le prime edizioni. Un anno con l'altro si vede proprio un salto di qualità. Alcune sono riconferme di allevatori. Qua arrivano allevatori sia dalla provincia di Bergamo ma anche da fuori. È una fiera, è una mostra che ha un richiamo abbastanza ampio. Con le prospettive che c'erano quest'anno tra contagi e condizioni climatiche non ha piovuto e è stato possibile realizzare la manifestazione. Quindi è stato già quello un successo. La partecipazione anche da parte degli allevatori hanno risposto in maniera completa. La mostra di Valle Rossa, così come la maggior parte delle altre manifestazioni zootecniche che riguardano l'ambito delle capre, interessa maggiormente allevamenti di tipo bistico con le razze autoctone. E' questo un settore che mantiene comunque sempre uno zocco duro di allevatori, di appassionati che lo fanno non come attività principale e fa sempre piacere vedere anche che ci sono delle new entry, spesso giovani, ragazzi giovani o anche giovanissimi che magari iniziano a partecipare e poi nel giro di qualche anno si vedono anche i primi riconoscimenti che arrivano a queste aziende. Quindi si impara anche grazie alle mostre ad allevare, a scegliere gli animali giusti da allevare.